Volevo esprimere la mia gratitudine a tutto il personale del Fatebene Fratelli, in particolare al professor Zappa e, fondamentalmente, a tutti i donatori di sangue. Sto cercando un modo per portare attenzione a questo argomento, perché se non fosse stato per i donatori di oggi, non sarei qui. Fedez ha condiviso queste parole mentre usciva dall'ospedale, con sua moglie Chiara Ferragni al suo fianco, dopo essere stato trattato per due ulcere e aver ricevuto tre trasfusioni. Successivamente ha postato su Instagram con il messaggio «Finalmente a casa! Grazie per tutto l'affetto e il sostegno. Non dobbiamo mai dare per scontato questi gesti», ha aggiunto. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.